Preparate crocchette e cucce che si parte! Da oggi con l'accordo NCCIA sarà molto più facile seguire i nostri adorati bipedi in vacanza. Oltre 4.500 agriturismi si sono impegnati infatti ad offrire il massimo comfort per ospitarci. Come? Uno specifico pollino di qualità indicherà le strutture idonee a fornire il servizio. Per saperne di più però mi sono fatta raccontare tutto dai diretti interessati. Un impegno a promuovere l'accesso dei cani nel turismo rurale, a integrare le attività agricole e agrituristiche con le necessità degli animali e anche delle persone che passano nei nostri amici le loro vacanze e non vogliono lasciare gli animali a casa. Il mondo agricolo mette a disposizione le sue strutture, le sue strutture per ospitare sempre meglio i nostri benemili, i nostri cani. Poi stiamo facendo degli accordi con i pastori maremani. I cani colibrati che sapranno stare all'interno del greggio, difendere il greggio ma allo stesso tempo avere un buon rapporto con le persone che vivono la montagna. Ciao, io sono Circe, sono un pastore maremano a Bruzzese e oggi sono qui per un'occasione molto speciale. Mi presento e andrò a lavorare in Toscana in un'azienda agricola, difendendo i miei polli, le mie anatre e tutti gli animali dagli attacchi di frutti frustratatori.